Cine viaggiando, come trasformare la vostra vacanza in un film. Una troupe cinematografica riprenderà il vostro soggiorno, immortalando scene e momenti che diventeranno eterni. La città di Roma, set naturale di tante scenografie, ora aspetta solo voi. Il DVD contenente il film e le foto delle vostre vacanze vi sarà consegnato a casa. La città di Roma Immaginate lo stupore dei vostri amici nel vedervi trasformati in attori professionisti, molto più che una vacanza. Immaginate lo stupore dei vostri amici nel vedervi trasformati in attori professionisti, immaginate lo stupore dei vostri amici nel vedervi trasformati in attori professionisti, quindi la città di Roma è una vacanza in attori professionisti, e poi si tratta di un po' di più che 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 un po' di più.